Le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 21 ottobre di Globus Television. Lunedì, pressione in diminuzione, giornata contraddistinta da condizioni di tempo instabile con probabili temporali. Temperature massime fino a 24 gradi, valori notturni senza variazioni. 20 deboli. Mari, martirreno mosso, marionio da molto mosso ad agitato, stretto di Sicilia mosso. Grazie a tutti.